Oggi ho registrato veramente tantissimi contenuti per il secondo canale e avevo appena concluso perché si erano accumulate sulla mia scrivania tantissime spedizioni, tantissimi pacchi. Termino il tutto e poi all'improvviso suona il postino e ne porta altri due. E allora cosa facciamo? Non ce li apriamo insieme? Ma certo che sì. Prima di tutto però come al solito un mi piace, un commento e un'iscrizione al canale. Road to 20.000 iscritti anche sul secondo. E allora io direi di iniziare da questo che è un po' più cicciotto, ha qualcosina al suo interno e io so anche di cosa si tratta perché mi ricordo di questo pacchettino che non è costato tanto, anzi veramente poco, ma che contiene carte veramente utili e importanti. Come ormai ben sapete ho deciso di completare Pokémon 151 in versione Holo Reverse ovviamente per le carte comuni e poi Holo e tutto il resto per le carte più rare. Però per farlo ovviamente ho sbusti o acquisti e dato che non avevo voglia di acquistare tutto perché sennò si perde la magia ovviamente anche di fare la collezione, ho comprato qualcosa che potrebbe comunque darci una mano perché io voglio sfogliare il mio raccoglitore e mostrarvi quelli che sono i punti a cui sono arrivato. Ma per farlo serviva un po' riempire il tutto e quindi abbiamo qui qualche carta acquistata. E allora io a un certo punto ve le girerò e andremo a vedere che cosa c'è. Partiamo, giriamo e allora abbiamo un Bulbasaur, sono tutte Holo Reverse, tutte in italiano e ovviamente le ho pagate poco perché non sono carte di valori, intorno ai 10 centesimi l'una, forse anche qualcosina meno un Bulbasaur, un Metapod che abbiamo sbustato proprio l'altro giorno, Metapod è forse l'unica che ho pagato un pochino di più se ben ricordo un Rattata, molto simpatico in questa illustrazione, un Pikachu, come al solito Pikachu è una carta un po' particolare non poteva mancare alla collezione, Senshryu, carino, abbiamo Nidoquin, la regina, abbiamo Jigglypuff che abbiamo appunto trovato l'altro giorno Zubat, Pokémon veleno con l'energia oscurità Migasano, Golbat che è un artwork della Madonna, guardate qua sei cattivo guardate qui sei incazzato, meraviglioso, poi abbiamo un Oddish che insomma diciamo che va bene così abbiamo un Gloom che insomma diciamo che va bene così, abbiamo un Venonat, Pokémon che a me non dispiace neanche tantissimo però poi è difficile valorizzarlo all'interno di una carta, la sua evoluzione Venomot anche se dovrebbe essere un Butterfree Diglett che sembra una bella citazione, un bel richiamo al Diglett del set base abbiamo un Meo, molto carino secondo me questo artwork di Meo, però mi piacerebbe commentare tutti gli artwork di 151 all'interno di un video dedicato apposta, Persian, che è molto bello, l'avevamo visto in giapponese l'altro giorno qui sul canale, abbiamo uno Psyduck che è sempre un Pokémon insomma molto molto simpatico abbiamo un Golduck che è uno dei miei Pokémon preferiti però questa illustrazione diciamo che non rende tutto il suo potenziale Mankey, manchia sta carta ragazzi quanto è colorata, quanto è definita, quanto è inidita cioè quanto è bella poi abbiamo un Abra abbiamo un Abra perché se avevamo già le promo Slowbro che è un Pokémon di un'ignoranza meravigliosa cioè troppo ignorante, troppo bello Magnemite, scattato direttamente all'interno di una centrale elettrica così come Magneton io non adoro le foto ai Pokémon per le carte, però devo dire la verità in questo caso forse hanno fatto qualcosa di fatto anche abbastanza bene Farfetch, Pokémon che a me piace sempre tanto in questa illustrazione beh, forse non tantissimo Onix insomma Krabby Voltorb illustrazione fatta bene secondo me questa qua anche se Voltorb non è un Pokémon spettacolare Raidon il primo Pokémon disegnato in assoluto nooo ci siamo spoilerati tutto c'era prima Lapras e poi Porygon anche questa citazione al set base e poi Kabuto e queste sono alcune del Holo Reverse che ho comprato di 151 ma non sono le uniche le altre devono ancora arrivare però devo dire la verità, ok cancelliamo l'indirizzo del mittente quello che mi importa di più da farvi vedere oggi è questa questa spedizione qua vediamo se è dritta se è al contrario vediamo un po' ok ok, sono anche un po' curioso adesso di questa cosa questo è un acquisto che ho fatto su Card Market su MKM che io solitamente utilizzavo per acquistare carte di Magic ma questa volta ho acquistato una carta di Pokémon e per la prima volta sul canale da quando vi porto gli acquisti vi devo dire la verità ho comprato finalmente una carta di quel Pokémon lì lo avete capito tutti in realtà avevo acquistato questa stessa carta da un utente di nome Moscardelli tra l'altro molto molto simpatico come nome come l'ex calciatore Barbuto che però non me l'aveva mai inviata quindi ho chiesto il rimborso a MKM non aveva proprio mai fatto la spedizione quindi i soldi non gli erano stati attribuiti quindi con il rimborso ho semplicemente acquistato da un altro utente che ce l'aveva in vendita a una condizione veramente meravigliosa ora lo sapete sono un malato di carte gradate questa non è una carta gradata ma la mia intenzione è di mandarla a far gradare quindi se volete un video con tutte le mie carte che ho intenzione di far mandare a gradare fatemelo sapere nei commenti e magari con il mi piace è una carta abbastanza vecchiotta e vi dico subito che è in lingua italiana come potete vedere infatti non è una carta giapponese dato che non ha il solito back come abbiamo visto più volte qui sul canale anche con le gradate di Charizard ok posso anche girarvela perché ci sono delle altre carte a protezione e anche queste sono carte abbastanza vecchie e qui c'è la cifra a cui ho acquistato questa carta voi direte quindi è una carta di valore beh sì è una carta che secondo me fa il suo no non ho acquistato starmi per 40 euro quindi io per il momento la carta col top loader la lascio qui e andiamo a vederci le carte che sono state utilizzate come protezione come starmi l'energia fuoco l'energia fuoco e l'energia acqua comunque sono carte antiche e non è mica male come protezione queste carte qui anche se sì sono ovviamente in condizioni un po' così però dai perché no starmi pokemon tipo overpower secondo me nella prima generazione per typing per mosse per statistiche per tutto allora provo a estrarre dal top loader questa carta senza rovinarla esatto per far uscire anche la sua busta allora non è una carta perfetta vediamo qui qualche segno come potete vedere perfetta non lo è sul back ha qualche segnetto però ci sta perché ha i suoi anni è una carta che ha i suoi anni ed è una carta secondo me molto molto interessante io ora ve la giro ed è questo Gengar io non sono amante delle carte con questo bordo però amo Gengar adoro Gengar lo vedete dal logo del canale ho un tatuaggio di Gengar quindi meraviglioso è un pokemon fantastico veramente fantastico io sono cresciuto dicendo che il mio pokemon preferito era Charizard e rimane Charizard per storia ma invecchiando Gengar si è preso una parte grandissima del mio cuore veramente grandissima quindi Gengar è meraviglioso e secondo me è questo artwork che è molto interessante per una carta che non ha un costo altissimo e che si è fatta gradare magari può valere qualcosa perché appunto è una carta vintage quindi il back non è eccezionale il front però devo dire la verità non è male per niente male poi certo ovviamente Starmy è più bello cioè c'è da dire la verità secondo voi quella carta quanto può prendere a livello di gradazione e soprattutto lo avete mai mandato a gradare ce l'avete anche voi avete delle altre carte di Gengar gradate magari old layout magari vintage proprio come questa aspetto le vostre qui sotto nei commenti ciao ragazzi